Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Un degno sacrificio, spero dopo la condividerete a tutti. Considerazioni sulla poesia. L'impegno è la nostra base di lavoro e di ogni forte attenzione verso l'umiltà è il simbolo chiaro. Un sacrificio degno di lode ha alle sue spalle un sacro artificio di caratura esemplare, quindi un sacrificio è un qualcosa di bello, un impegno costante e continuo di ogni uomo che ogni giorno dona al mondo per far vedere le proprie qualità. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Un degno sacrificio. L'impegno è la base di ogni degna attenzione verso un giro umile di lavoro sacrificante. Un degno sacrificio ha alle sue spalle un sacro artificio di caratura esemplare. Un vero sacrificio è fatto da chi osserva nella vita il sacro lavoro di chi vive di umiltà. Un degno sacrificio è lo sviluppo di un significato ricco di duro impegno per un futuro intenso e pieno. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci.